Apparentemente nulla di nuovo sotto il sole. La programmazione del Foggia deve ancora entrare nel vivo ma da domani comincerà ufficialmente la nuova stagione ed il club rosso-nero, al di là di quello che accadrà in sede di giustizia sportiva e non, ha l'obbligo di accelerare. Bisognerà in fretta e furia individuare una nuova guida tecnica, poi occorrerà procedere al completamento della Rosa o di gran parte di essa, che comincerà a lavorare nel ritiro precampionato, che da indiscrezioni potrebbe vedere il Foggia tornare in Val d'Aosta, precisamente a Châtillon, dove i rossoneri agli ordini di Zeman lavorarono già due stati fa. Una quindicina sono al momento i calciatori sotto contratto dai portieri Nobile e Dalmasso ai difensori Garattoni, Rizzo e Di Pasquale. Legati contrattualmente ancora al Foggia anche i centrocampisti Vacca, Frigerio, Schenetti, Peterman, Auger e Di Noia, così come gli attaccanti Peralta e Beretta. A questi vanno aggiunti quei giocatori di rientro dai vari prestiti come il difensore Papazov e gli attaccanti Tonin, Vitali e Vutai. Movimento si registra attorno ai gioielli rossoneri, su tutti Frigerio, sul quale si sono fiondati Cosenza e Empoli, ma non solo, e Garattoni, il terzino bomber. Entrambi potrebbero partire, ma solo in caso di richieste ritenute economicamente irrinunciabili. Sul fronte delle entrate il Foggia avrebbe già cominciato a sondare qualche importante club di Serie A nel tentativo di scovare nuovi Frigerio, ma per i puntelli c'è ancora tempo, le priorità sono al momento altre. In primis scegliere a chi affidare il nuovo progetto tecnico la lista dei papabili a prendere il posto di Dele Rossi non contemplerebbe al momento né l'ex Cerignola Pazienza né tantomeno l'ex Potenza Raffaele.